Il papà per me è un problema, perché non ce l'ho? Ho un bisopapà che sarebbe mio nonno, ma non devo chiamarlo così perché gli piace fare il giovanotto con le femmine. Ma che sta a fare? Gigi più sta e più diventa sospettoso. E te che sta a fare qua? Chiesa, ha messo pure il vestito dalla festa! Ma tu non mi ami più? Ma come facciamo? C'ho tu figli, Sergio, c'ho una trattoria di Gigi, casa di Gigi. Oggi faccio oggetto. Vabbè, accetto pure un socio, forza. Siamo ricchi, ho vinto 3 milioni. Ti porto io da questa malvezza. Oltre che bandito, questo è un burino pecorato. Sei licenziato, ti faccio terra bruciata. Compagni, il principe se ne va! E poi finalmente ci godiamo sti milioni. Vieni, questo devo servire, se tu muoia, vieni, questo, bene. Non avevo vinto niente, Sergio. Eh? Te lo scherzo. Abbiamo vinto un cazzo. E allora non gli diciamo niente? Sianpai, per favore. Chi sa come fa ma fagli crede per essere ricchi? 107 euro. Che ti siete maniati? Quali sarebbe sto problema? Fisco. Fisco. È come nelle rapine. Per due mesi non si tocca il bottino. Hey honey. Ma che dubitate di Sergio? Siete matti? Voglio la prova. Ah, vuoi la prova? Una vera casa da vip. Splendida, eh? Hanno paura del fisco. L'idea di spacciarsi per manutentori è geniale. Ma lei è pazzo. Ma che c'è scamalo? Ma che c'è scamalo? Di qualcosa. Qualcosa, non so. Dai le ditiera. Qualcuno vuole fare un'orgia? Ma cosa fai? Ma dove vai? Ma basta. L'educazione. Ma che certo. Oh, divertiti. Ma soprattutto vinci. Mi raccomando, eh, G.B. Mi raccomando, eh.